I due punti su cui mi volevo focalizzare era sicuramente il paragrafo 12, il discorso degli aiuti di Stato. Mi fa piacere che venga ricordato che qualunque tipo di finanziamento, soprattutto per gli aeroporti regionali, debba comunque tenere ben presente e muoversi all'interno della normativa europea. Questo perché nei aeroporti regionali in alcuni Stati membri sta succedendo di tutto e si stanno mascherando aiuti di Stato reali sotto forma di finanziamenti di diverso tipo che gli enti locali danno ai vari gestori di aeroporti piccoli e anche molto piccoli, che giustamente hanno bisogno di sostegno, ma questo sostegno non può essere tutto sulle spalle degli enti locali che drogano a questo punto una situazione che non è sostenibile. Invece mi piacerebbe, approfitto della presenza del rappresentante della Commissione, che il Parlamento venga coinvolto per trovare delle strategie per aiutare gli aeroporti regionali che hanno bisogno di aiuto, perché alcune zone d'Europa non possono essere tagliate fuori dal trasporto aereo, però non possono questi aiuti pesare sugli enti locali, sulle regioni che per sostenere l'esistenza in vita di questi aeroporti tolgono enormi finanziamenti, enormi capitoli di spesa ad altre voci locali come la sanità, come altre voci notevoli per la cittadinanza. L'ultima cosa velocissima è il discorso legato alla riduzione delle emissioni. Mi piacerebbe inserire all'interno di questo discorso quella che si chiama sovrattassa sul carburante, che spesso consente alle compagnie aeree di non avere come problema il consumo del carburante e di prediligere delle tratte più lunghe per il discorso della tariffazione delle rotte, e quindi di passare su stati che hanno delle tariffe più basse, quindi consumando paradossalmente di più con dei tragitti più lunghi e quindi andando un po' contro quelli che dovrebbero essere i consumi di carburante.